Ragneri aveva detto noi abbiamo bisogno di giocare ogni tre giorni, questo è il nostro DNA, non possiamo permetterci il lusso di pensare, dobbiamo giocare, giocare, giocare. Sì, no, soprattutto dopo la lunga sosta di 20 giorni, abbiamo visto che giocando ogni tre giorni la concentrazione era sempre massima e invece contro il Siena non avevamo la concentrazione al 100%. Per questo tranne Nedved, Marchisio e non ricordo chi, pochi altri, insomma tutti gli altri li ho voluti far giocare proprio per ritrovare quella continuità d'insieme che avevamo nel 2008. Sì, suggeriva Cerquetti, ha dimenticato Molinaro ma comunque l'obiettivo non era solo la Coppa Italia, abbiamo detto, è quel quarto di finale perché da lì in poi riprenderà con intensità la stagione, ci sarà la Champions League, il doppio confronto da preparare con il Chelsea. Troppo difficile, o oramai cercare aggettivi per Del Piero, allora troviamone uno questa sera per Giovinco. Ma Giovinco ha fatto una buona partita, anche nel primo tempo ha creato parecchi problemi alla difesa, quando punta l'uomo nell'uno contro uno è bravissimo. Dovrei dargli più continuità, però la squadra sta andando bene così, però sicuramente gli darò lo spazio che merita. Vice Nedved una soluzione sicuramente più comoda in questo momento, anche per dare un po' più di fiato al Ceco. Beh, sarebbe una soluzione comoda e sono contento che ha fatto questa grossa partita. Non è la sua posizione normale, però l'ha fatto l'anno scorso, lo ripeto, e perché no non farlo qui con noi alla Juventus. Grazie a Daniele.